Per noi il nostro modo di procedere diventa fondamentale, nel momento in cui noi abbiamo bisogno di avere un diverso sguardo sul mondo. Qualcosa cosa che vediamo e facciamo, in particolare quando pensiamo di altre persone, non possiamo essere obiettivi. Secondo la mia esperienza, le variabili del designer possono diventare un driver che è molto importante per far esprimere le persone su cui hanno una vulnerabilità. È molto importante trattare di disminuire i stereotipi, le breche di discriminazione per la mujer e per le persone che si identificano con giovani differenti. Il nostro corso è che noi cerchiamo di incluire un'altra serie di approcci, non solo a play, ma anche delle grandi miscini e ciò che ci sono inoltre, in cui le persone si trovano la loro migliori modo di esprimere. I sei pilastri della innovazione responsabile sono public engagement, open access, la dimensione di genere, la dimensione etica, l'educazione e l'open governance. Inoltre è formato da quattro dimensioni che sono la dimensione dell'anticipazione, della riflessività, dell'inclusione e della responsività. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.